Musica Benvenuti e ben ritrovati a tutti a Cato Siamo qui in occasione dell'undicesimo TMO cioè la undicesima gara del trofeo miglior orientista a livello ticinese Adesso stiamo attendendo l'arrivo delle nuove macchine Siamo qui proprio all'entrata del paese e fra poco arriveranno anche i furgoni delle società Vi ringraziamo e vi auguriamo una buona visione con T-Orientining News Paolo, come hai trovato questa gara? Questa gara, anche favorita dal tempo splendido, era bellissima Tecnicamente giusta, non troppo difficile, però ostica Bella, bella gara Quindi niente difficoltà? No, no, difficoltà ce n'era, la lunghezza era giusta C'era quel bosco, quel prato, un bosco aperto con vegetazione un po' sparsa, l'ho trovata difficile e anche alcuni tratti nel bosco con parecchi sassi Boh, il tracciatore ogni tanto metteva dei sassi vicini con dei punti uguali, era bella Cosa miglioreresti di questa gara? Della gara o di me stesso o benesimo? Tutti e due dai Allora, di me io devo andare dentro un po' più deciso nei punti sono ancora troppo prudente Dopo alla fine manchi, non è che fai dei grandi errori ma ti mancano minuti alla fine della gara meglio rischiare, devo rischiare di più La gara secondo me era equilibrata quindi in questo senso era una gara ben tracciata complimenti al tracciatore Ok, e dell'organizzazione? Beh, l'organizzazione, presidente Asco, posso solo dire perfetta Naturalmente, grazie E' andata bene Ho fatto qualche piccolo errorino specialmente verso l'inizio dopo sono andato abbastanza regolare controllando bene, leggendo bene la cartina e devo dire che era un percorso abbastanza scorrevole ma duro c'erano delle salite abbastanza la salita era poco ripartita lungo il percorso e c'erano delle belle rampate da fare, però un bel percorso, sono contento Com'è andata la gara? Abbastanza bene ho fatto un po' una pascolata subito al secondo punto e dopo penso di aver fatto nei miei tempi senza ambizioni particolari però l'importante è arrivare senza farsi male Chiaro, grazie Grazie a te Mi hanno chiesto di fare un'analisi della mia gara come è andata la risposta è che non lo so ho passato talmente tanto tempo attorno al 7 che penso che potevo aggiornare io la cartina mi mettevo lì e disegnavo tanto avevo del tempo ma tutto sommato bel bosco gara carina, abbastanza tecnica la mia caviglia ringrazia tutti i dossi e le coste che abbiamo fatto oggi e sono comunque contento dai, saluti E' la prima volta che traccio una gara com'è stato? Sì, è la prima volta che traccio è un'esperienza molto interessante da, comunque da rifare E' stato difficile? Ha occupato molto del suo tempo? Difficile sì perché essendo la prima volta ci sono tante cose che non si sanno come funziona chi bisogna coinvolgere come fare i percorsi e mi ha preso molto tempo sì essenzialmente l'ultimo mese diverse serate e notti ci ho lavorato però con piacere sempre ora è soddisfatto ha ricevuto molti complimenti Fino adesso sì e spero che continua così ok grazie grazie mille for having me here in southern Switzerland I am from New York upstate New York around Albany which is where my home is located two hours north of New York City we do not have terrain nearly so beautiful as southern Switzerland the terrain on the orientarian course that I ran today 3.8 kilometers was extremely hilly in the US we call this very steep and challenging so to get a good foothold and not to slip down the hill is really the best challenge of course it takes tremendous amount of endurance and strength but you all know this all the Swiss know this because they're used to doing your orienteering here in these mountains we have no mountains like this in the US maybe a little bit out in Colorado out to the western part of the United States but in New York no we don't have these kind of these kind of mountains also I specially ordered in an email requested that the sun was here today and the email was answered the sun is out today so thank you to all my Swiss hosts you've been fantastic we have a lot of people who have a good x you are isn't it here in the SQL oh how many have you heard you there you have to what have I done there it scegli se bisogna farne due a uno vieni brava